ben trovati al tg sordi di lecce 7 tragedia all'alba di domenica sulla strada che collega torre dell'orso a melendugno mattia toscano di 20 anni era alla guida della sua auto quando è uscito fuori strada finendo contro un albero pesanti contestazioni nei confronti di barbara lezzi da parte di un gruppo di attivisti not up il ministro per il sud era ospite dell'università del salento i not up non perdonano al movimento 5 stelle la marcia indietro sulla battaglia contro il gasdotto scontro tra il ministro dell'interno matteo salvini e l'arci di lecce l'associazione salentina ha annunciato che difenderà gratis chi è stato multato per aver acquistato dagli ambulanti sulle spiagge la corte dei conti scongiura l'ipotesi dissesto per il comune di lecce ma l'ex primo cittadino paolo perrone attacca salvemini il sindaco non dice che con lui la gestione dei conti di palazzo carafa è peggiorata annata negativa per la produzione di angurie nel salento l'allarme arriva da col diretti il clima anomalo con un'estate insolitamente fredda nel nord europa e anche nel settentrione italiano ha determinato un calo della richiesta e il crollo dei prezzi sino a 5 centesimi al chilo rispetto ai 20 degli scorsi anni polemiche sul web per un video in cui un parcheggiatore di gallipoli insulta pesantemente un turista inglese che non aveva capito dove lasciare l'auto un danno per l'immagine del salento una vergogna per la città ha commentato il sindaco stefano minerva grazie a tutti grazie a tutti